no e mi sa che abbiamo il jigsaw come killer è il suino è il suino è il suino è il buore dei raggi Certo che può correre Quando passiamo ad alta normale dovrebbe piove Andiamo a noi No, ti ha raccolto, ti ha raccolto No, non vuole Forse non la vuole sprecare No, quando viene attivato un gen ti parte il timing Finchè non viene attivato un gen non parte il timing E tu hai il tempo per lì andare a Le caselline, che caselline No, ora ti parte il timing perché è stato attivato il gen Quanto tempo hai? Non lo sai Non c'è scritto niente Mi sa che gli piazza la trappola se gliel'ha piazzata Ti vengo a salvare Ok Alcia pure il pack che fai la tua scelta Mo per 60 secondi se mi becca mi one shot A me che t'ho liberato Ah no, solo a quello che ti libera Ti è rimasto Fra poco ti è rimasto tre quarti di tempo Sei quasi a un quarto Sprecato Sprecato Cosa? Cosa? Devi andare alla trappa E devi fare il coso là L'ho visto Guarda quanto è suino che sta accovacciato Sei quasi a metà del tempo di vita Non ti salva nessuno Ce la fai a salvarla? Finchè è inquietante però Quel cazzo È già arrivato al 2 È inquietante quel cazzo di coso là dietro No Ok Ma tanto se la appende è morta Ce la fai a liberarti? Ah ok È un morso di ferro Prometto Ammorsa di ferro Ok Ce l'ha con te? Vuoi aiuto? Devi trovare una cosa per toglierti la trappola Con l'omino sulla cosa là Hai capito? A lei Io l'ho detto Tu te lo sei levato Tu l'hai levato Susan Susan Hai trovato il coso con l'omino? Eh Fai la cosa Con le skill check Ma l'ho lasciata a terra Gli sta piazzendo la trappola Ok Se io attivo il gen Parte il timing Per tutti e due Però Non posso attivarlo Eh no Lo lascio al 99 Ah Cule Non lo so Io non so come funziona ancora Trova un'altra casella Un'altra merda di quelle Con l'omino Perché no Mi ha scattato Cacciato la Perché ha staccato il cavetto Br opposite Un'altra Un'altra Sì Ho Con l'omino Ho 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 ciao ma mannaggia susanna è morta minchia cosa adesso va minchia la scuola ma come si abbassa il suino ha visto Save con la torcia. Contro il muro. Non lo posso salvare contro il muro. La trappola. E ora la cerco. Non lo posso salvare contro il muro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.